116 rinunce su 216 scrutatori sorteggiati tra titolari e supplenti e questo è il bilancio che arriva da Palazzo San Francesco sulle operazioni preliminari di allestimento dei seggi elettorali per le elezioni amministrative in programma domani 3 lunedì 4 ottobre. Un boom di rinunce al di sopra di tutte le aspettative che ha tenuto impegnati i presidenti dei rispettivi seggi per le sostituzioni. A Palazzo San Francesco sono stati predisposti percorsi ad hoc per accedere nel cortile dell'ufficio elettorale che resterà aperto per tutte le operazioni di voto il tutto per consentire la gestione dei flussi in tempo di emergenza pandemica. Fervono quinti i preparativi la mappa dei 26 seggi elettorali sezione numero 1 la sede municipale Palazzo San Francesco sezione 2 3 4 l'ola di Stefano scuola primaria la 5 e la 6 liceo Vico la 7 scuola media Ovidio la 8 e la 9 liceo scientifico Enrico Fermi sul Mona. La 10 scuola media Ovidio la 11 liceo Vico la 12 l'ola di Stefano e poi le frazioni la 13 Marane 14 Badia 15 Bagnaturo 16 Cavate 17 Torrone 18 e 19 scuola media Capograssi 20 l'ola di Stefano 21 e 22 liceo artistico 23 scuola media Capograssi 24 liceo Vico 25 liceo scientifico Enrico Fermi 26 l'ospedale dell'annunziata